Grazie, ben da questo momento, io sono Raffaele e oggi siamo tornati su Happy Wheels. Eccoci qua, siamo su Happy Wheels. Proprio su Happy Wheels. Visto che oggi è Pasqua, voglio fare i livelli di Pasqua, quindi... E Aster... E Aster Challenge. Voglio fare questo. Ok ragazzi, ci siamo. Pericolo. Dove? Benvenuto alla Pasqua Challenge. Mi spiegate una cosa? Se non posso andare là sopra, perché sta scritto per... Che pericolo c'era? E vai! Ok. Alla fine, no! Il passo nel mio sangue ha vinto. Vabbè, non importa. Facciamo il prossimo. E Aster Edge out. Ok, facciamo questo. Ok. Perché mi sei d'olto? Scemo! Prendi Yook! Vai, Yook! Ti ho preso! Adesso! Il cappello se lo sta mangiando. Non è un cappello, è un caschetto. Vai, scemo, vai! Allora, il roccio è vero, non è che è finta. L'albero è finta, sennò non mi passo. Lo salvo il roccio. La casa di pan di zenzero. Che fa... Che poi si rarrazzano? Che rapido dove devo andare? Il traguardo! Basta toccarlo. Basta toccarlo, ma so già che non finirà così come penso. Che cavolo! Mi ci arrivo. Ah, Yook! No, Yook! Yook! Mi sto avendo detto che non finirà. Che non finiva così. Vai, no! No! Vai, no! Arriva il traguardo! Il traguardo! Traguardo! Erro alla fine! No! Dai! No! Sul serio! No! Dai! Forza! Forza! Ma questo non ci arriva! Appena arrivo là salto. Salta, scemo! Salta! Per la miseria! Vai, Yook! Ma la patina è finta! È normale! Razzini, spiegate come faccio se la bandiera è finta! E' a star edge, quindi un uovo. Oh! Ma che è sto coso? Ha messo l'uovo! Però che figata! Ah, ma c'è qualcuno qua dentro! Sì! Ma chi c'è qua dentro? Aspettate, vedo la testa! Ah, il padre di Yook! Aspettate, vedo la testa! Ok, il mio spuntino è finito! Ah! È Aster Edge! Proprio tutto attaccato! Ma chi sono io? E poi dove sono? Però, posto! Vi spiegate cosa devo fare! Beh, non lo lasciamo perdere! E' Aster Edge Troll! Quello di prima della patina, quindi era un troll! Questo qui è un troll! Come c'è arrivo là sopra? Ti spiegate come c'è arrivo là sopra? Sì! Ma se la palla non si toglie, è normale che io non riesco ad arrivare là su! Ma quando la potrebbe spostare? Oh, ce ne parla! Vabbè, lasciamo perdere! Passiamo al prossimo! E' Aster poco jump! Non ti consiglio! Vanno sempre poco jump! E vabbè, come c'è arrivo là sopra? Non è possibile! Ok, ok, ok! Vai lassù! Prosto! Prosto! Vanno! Big Bunny! Cutie Bunny! Rotten Egg! Ma c'è arrivo! Pensando poi al prossimo! E ancora dopo! Ma come c'è arrivo là sopra? Non è possibile! No! Ce ne sta ancora un altro! E come c'è arrivo là sopra? C'è... Ragazzi, non immagino quello dopo ancora! Come c'è arrivo là sopra? Dovrei avere le ali! Non potrei piuttosto usare quella ciccione con l'elicottero? No! Tocca a dire! Sì! E vabbè! Come si fa? Mi faccio derogare là sopra! Apri! Apri di scemo! Cliccare! Cosa? Cosa devo cliccare? Cliccare! 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 Ehi! Che è sto coso? Un uovo gigante! Però che bello! Ciao ciao! Ah ma devo cliccare sull'uovo! No, devo cliccare niente! Ma dov'è sto livello? E devo cliccare? Cosa? Cliccare! Mi spiegate che cosa devo cliccare? C'è... Ragazzi sono da mezz'ora a questo livello! Cliccare! 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 Sì! Ua! Tutti questi secondi ho perso però! Ok! Passiamo al prossimo! Ragazzi sapete che scrivo? E' Aster! Sword! Voglio fare qualche Sword Troll di Pasqua! Eh perché non è tempo che non faccio qualche Sword Troll! Che è sto coso? Questo non è uno Sword Troll! Yook già è ucciso! No no no! No ragazzi non si può fare! Ma se al prossimo qui sta Steve? No no! Ma è stato Steve nei Sword Troll! Perché stavo uscendo poco jump? Prendi questo! Hai dovuto colpire qualcosa! Ah! Sì! 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 Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ok! Allora! Andiamo un po'! Devo averlo vinto per forza! Per noi c'è scritto Victory! Vabbè! Vabbè! Lasciamo parte del Raffaele! Passiamo a provo! Ah già mi stanno! Vediamo! E Asker! E Asker è il buon Troll! Ok allora! Cos'è sto coso? Che figata! Devo lanciare l'uova! E dai! Prendi l'uova! Ragazzi questo scema prendilo! Sì! Grazie mille! Che mi servivano! Missiche! Cioè missile! Aiuto! No! Ok! Grazie! Passa al prossimo! Dinosaurus 2329 Cosa volevo dire? Ma che è sto coso? No! Mu! Ma che sei una mucca! Uncleric! Sportuna! Prendi la spada! Prendi la spada! Questo è uno Sword Troll! Mi spiegate perché tutte le palle sono finite in aria? Io rifaccio che è meglio! Ho fatto un ponte! Per andare su quello! No! Cosa ho fatto? Perché sono uscito fuori? Dai! Ma che cavolo però! Oh! Le prendo una! Le prendo una! Le prendo! Non ragazzi c'è! Non si può fare! Dai però! Perché? Perché? Esco sempre fuori! Ja! Prendo! Dai! Win! Dei mettere! Win! E la miseria! Vabbè ragazzi basta! Faccio l'ultimo e poi basta! Scrivo win! No un attimo! Vic! Victory! Che succede che vinco? Voglio vedere un po'! Sta là la vittoria! Sta là! E' un troll! Derrick qua! Special! Ma che cavolo! Perché non posso andare là? E' la miseria! Devo andare sempre a quelli! Uh! Ah no! Devo ubicare! Clicco! Questo! Però io già so che sarà! Erano tutti quanti veri! Oh! Ho sbagliato! Perché? Dai no! Bene ragazzi! Buona pasqua a tutti! Iscrivetevi al canale! E ciao ciao!